buongiorno e ben ritrovati ad occhio ai giornali nell'edizione di questo mercoledì 9 ottobre che comincia in orario inconsueto per ragioni non dipendenti della nostra volontà ce ne scusiamo comunque come sempre in apertura dedichiamoci al santo del giorno che è San Dionigi di Parigi o se preferite Saint Denis primo vescovo romano dell'odierna capitale francese allora Gallia morì martire sotto la persecuzione romana dove fu sepolto furono poi erette la basilica e poi l'abbazia a lui intitolata il sole oggi è sorto alle 7 13 tramonterà alle 18 e 36 ora lo sguardo al metro e come potete scorgere dalla grafica si preannuncia una giornata prevalentemente soleggiata ancora sporcata da qualche nuvola a tempo che si manterrà stabile anche nel corso del pomeriggio e della serata con temperature che saliranno ancora e sfioreranno appunto nel corso del pomeriggio in particolare i 25 gradi e adesso andiamo a dare conto delle notizie che trovano maggiore rilievo questa mattina sui quotidiani locali cominciamo con la cronaca e l'operazione condotta dai carabinieri di Fano titola il corriere adriatico un chilo di cocaina famiglia in manette in casa laboratorio per tagliare la droga padre madre due figli un amico arrestati nella frazione di Carrara lo stupefacente avrebbe fruttato 80 mila euro operazione che ha messo nel mirino una famiglia albanese che appunto secondo quanto appurato dagli inquirenti aveva messo in piedi un traffico di sostanze stupefacenti indagini si all'interno dell'articolo che hanno preso le mosse dall'individuazione da parte dei militari dell'arma di un giovane i cui movimenti non sono sfuggiti movimenti chiaramente sospetti di qui la perquisizione nell'abitazione nella quale viveva insieme ai familiari dove nonostante i tentativi dei cinque di liberarsi della sostanza sono stati recuperati 20 involucri contenenti 50 grammi ciascuno di cocaina complessivamente un chilo della sostanza che immessa sul mercato avrebbe appunto fruttato 80 mila euro la cronaca ci porta anche a pesaro sempre con il corriere adriatico e all'operazione che ha portato all'arresto di un ex talento di amici che dovrà rispondere di rapina blitz in un hotel poi in una lavanderia la commerciante si è barricata e ha dato l'allarme il ballerino fanese Catello Miotto bloccato dalla polizia il 38enne residente a Fano ormai 20 anni fa ricorda il corriere adriatico aveva raggiunto una certa notorietà come ballerino di amici negli ultimi tempi qualche disavventura nel 2020 si legge all'interno dell'articolo l'uomo era già finito in carcere per scontare una penna definitiva di due anni e 11 mesi di reclusione per avere violentato l'ex moglie di un suo amico riporta ancora il corriere adriatico che ricostruisce quanto accaduto nelle prime ore della mattinata di ieri prima l'irruzione all'hotel Gala successivamente l'irruzione appunto anche in una lavanderia l'uomo è stato individuato e poi appunto arrestato e adesso facciamo nuovamente il punto sulla dengue c'è infatti uno sviluppo quello di cui danno conto questa mattina i quotidiani dengue che da Fano si è diffusa anche in Toscana vediamo cosa è successo vengono a Fano e ripartono con la dengue focolaio in Toscana burioni commenta io esagerato tornando a polinizare con l'ex assessore rossi che aveva definito ingiustificato l'allarmismo che si è diffuso in questi giorni secondo burioni quanto accaduto in queste ore è la prova provata che alla dengue bisogna prestare molta attenzione leggiamo come due donne a fine agosto siano state a Fano e abbiano contratto la dengue senza nemmeno accorgersene tornate a sesto fiorentino sono state punte da un'altra zanzara che con quel sangue infetto ha trasmesso il virus a un loro congiunto esattamente il padre della ragazza e il marito della donna l'als toscana centro ha accertato la dinamica del contagio si legge ancora all'interno dell'articolo appunto la presa di posizione di burioni non si è fatta attendere ma a parlare sempre attraverso le colonne del resto del cardino è anche un altro epidemiologo Pierluigi Lopalco secondo il quale è preoccupante la vastità del focolaio urgentissime misure anche se non viene specificato quali altre azioni debbano essere intraprese al di là delle disinfestazioni per quanto tardive possano essere state eseguite in un periodo in cui la zanzara si è già formata. Il Corriere Adriatico e venendo ad altro tema si occupa invece del problema antenne si apre un altro fronte dopo quello di Bellocchi a prendere posizione contro l'installazione di un nuovo impianto sono i residenti della zona del Don Gentili perché Iliad ha in programma appunto l'insediamento di un impianto proprio all'interno della struttura che fa parte del complesso Donorioni scoppia un nuovo caso antenne in pianto vicino al Don Gentili. Assemblea tra residenti quella convocata ieri sera con la partecipazione annunciata della vice sindaca e assessora all'ambiente Manocchi che aveva già anticipato nelle ore immediatamente successiva la presa di posizione dei residenti l'intenzione di avanzare ad Iliad una proposta alternativa così come è stato fatto nel caso di Bellocchi una soluzione in questo senso era già stata ipotizzata nelle settimane scorse la soluzione prospettata dal comune era quella di dirottare l'impianto del Don Gentili allo stadio Iliad però non ha aderito a questa idea ha proposto due soluzioni alternative si legge ancora all'interno dell'articolo e in questo caso è stato il comune a nicchiare ora si cerca un compromesso utile anche in questo caso se l'iter autorizzativo non è perfezionato comunque è vicino all'esserlo oggi l'ultima conferenza dei servizi e questa è la differenza rispetto a Bellocchi dove l'iter è invece già portato a termine nel caso di Bellocchi invece la società il provider che opera è Inuit in questo caso si tratta di Iliad Manocchi che conferma all'interno dell'articolo come siano stati programmati incontri proprio con Inuit e anche con Tim e Vodafone per fare il quadro della situazione relativamente anche alle altre partite aperte sul territorio. Tornando in qualche modo alla cronaca anche il documento reso noto ieri dal portavoce dell'associazione Nuova Fano ex Udc Stefano Pollegioni sicurezza non garantita ecco i luoghi fragili della città. Pollegioni ha prodotto un dossier fotografico che documenta strani scambi tra giovani in alcuni luoghi strategici in particolare da tenere sotto osservazione secondo lo stesso Pollegioni per il quale la sicurezza è un tema caro la zona dello sport park quella della Rocca Maratestiana e anche quella di San Lazzaro. Venendo invece all'arresto del Carlino spazio in particolare ai beni monumentali fanesi attraverso due diverse notizie innanzitutto il programma delle giornate d'autunno del FAI dedicate a San Paterniano da una parte la visita ai resti in via dell'abbazia dell'antica abbazia medievale dall'altra la visita alla basilica di San Paterniano. Per le giornate d'autunno una rara occasione di ammirare i resti romani emersi nei sotterrani di un'area privata porti aperte appunto anche alla basilica dove sabato si esibirà in concerto Davide Omiccioli che suonerà l'organo settecentesco. Ma l'altro spunto è offerto dall'annuncio fatto ieri dal sindaco Ser Filippi che ha scelto la chiesa di San Pietro in Valle che nell'occasione riaprirà i battenti per tracciare il bilancio dei primi cento giorni di mandato. Riapre San Pietro in Valle, grande evento sabato, l'annuncio del sindaco Ser Filippi che proprio nella chiesa racconterà i risultati dei primi cento giorni ponendo particolare attenzione appunto al fronte dei beni monumentali, al loro rilancio, alla loro riqualificazione e anche alla loro fruibilità come nel caso di San Pietro in Valle. Venendo invece di nuovo al Corriere Adriatico si dedica anche alla nuova indagine di gradimento presso l'utenza che viene avviata in questi giorni da Aset. Lo scopo è quello di arrivare ad offrire servizi migliori, sottolinea il Presidente Mattioli, che chiede collaborazione. A dicembre la pubblicazione dei risultati. Corriere Adriatico che dà spazio anche all'iniziativa che è stata voluta dal Comitato Provinciale della Federazione Pallavolo per ricordare nella maniera più consona Luigi Gigi Marfori, un uomo che alla Pallavolo ha dato tanto per decenni un pioniere di questa disciplina con la firma sul storico sbarco in Serie A della Pallavolo femminile all'alba degli anni 70. Gigi Marfori è venuto a mancare nel corso dell'estate. Il volley ricorda con un trofeo il grande amico Luigi Marfori. La federazione in occasione dell'Assemblea ha anche consegnato una coppa alla famiglia. Quanto invece al territorio ci dedichiamo attraverso in particolare il Corriere Adriatico all'intenzione da parte dell'amministrazione comunale di Urbino di realizzare una struttura per malati di Alzheimer. Questo se la Regione assicurerà ai posti letto la precisazione dell'assessore alla sanità del Comune Feltresco Foschi che anticipa il progetto che farà seguito all'iniziativa già in corso a Casa delle Vigne. Domani intanto all'ospedale di Urbino la giornata della salute mentale. Dal Corriere Adriatico e spostandoci in questo caso a Fossombrone il tema della sanità nuovamente trattato da Progetto Comune che a Fossombrone è all'opposizione tagli e disservizi per cancellare l'ospedale. Un nuovo censimento di tutto quello che non funziona. Addio ora anche al magazzino medicinali dopo che già il medico del 118 non è più H24 si legge all'interno dell'articolo e l'ambulatorio analisi non dispone più di tecnici in loco e gli utenti devono subire gravi disservizi anche allo sportello. Quanto invece agli eventi nel primo piano la fiera del cavallo che torna appunto a Cantiano a Cantiano lo spettacolo dei cavalli torna la fiera di tutte le eccellenze accanto allo spazio dedicato agli esemplari della razza del Catria anche premi, eventi e prelibatezze locali. Venendo invece a Mondolfo il Corriere Adriatico si occupa della protesta dei residenti di via Cavour che invitano a liberare i lampioni dai rami sulla strada buio fitto e il transito diventa pericoloso. Tornando invece ad Urbino e alla cultura la presentazione della stagione al Teatro Sanzio Chiara Francini in cine e tanti altri la stagione teatrale saprà divertire. L'assessora Ottaviani e Amata hanno presentato il ricco calendario. Presente anche Alessandro Preziosi che salirà sul palco con il suo spettacolo Alessandro Aspettando, scusate, Ray Lear. Veniamo adesso ai temi che vengono trattati all'interno delle pagine Pesaresi e dal resto del Carlino. I disagi che si vivono in via Branca murati dalle impalcature e lavori infiniti nei palazzi così i negozi vanno in agonia. In via Branca un'ottica chiuso mettendo in vetrina un cartello problemi con lo stabile. In via Almerici la situazione più grave. Sto pensando, dice un operatore, di concludere l'attività. Intoppi forse col super bonus all'origine delle lunghezze. A volte ci sono operai e poi spariscono per giorni. Questa è una testimonianza. Con questa gambia la gente pensa che sia tutto chiuso e non passa nessuno. Rileva un altro operatore resto del Carlino che a sua volta nelle pagine Pesaresi si dedica alle giornate d'autunno del FAI. In questo caso tracciando una panoramica che va da Pesaro all'entroterra. FAI le giornate d'autunno, chiese, palazzi e caserme. Il catalogo è sempre ricco. A Pesaro visitabili la caserma del Monte e la sede della Camera di Commercio. A Urbino la biblioteca e la chiesa di San Girolamo. A Pergola invece San Marco dal presidente del FAI provinciale. Malpassi un grazie ai militari per aver messo a disposizione, si legge nel sommarietto, la sede del ventotesimo reggimento, uno dei più antichi e decorati d'Italia. Sempre dalle pagine Pesaresi dell'arresto del Carlino. Anche la cronaca giudiziaria, l'inchiesta sulla Trevalli e in particolare lo stabilimento di Colli al Metauro. Inchiesta Trevalli. Uno degli indagati chiede di patteggiare otto mesi. Il caso è quello dei prodotti adulterati. Il PM ha dato il consenso a questa proposta. Ora si attende il pronunciamento del GIP sul resto del Carlino. Anche la notizia della soluzione di un 64enne della Pesarese che era stato chiamato a rispondere di molestie ad un disabile. Gli episodi, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, sarebbero stati più di uno. Ma il GIP ieri ha prosciolto l'anziano, non ritenendo sufficienti le prove che sono state acquisite ancora dal resto del Carlino. Dalla stessa pagina anche i problemi che hanno vissuto i residenti di Novilara per un guasto alla cabina dell'Enel. Per cinque ore niente acqua e luce, spaghetti bulliti con la minerale. Tutta colpa di un'interruzione elettrica che impediva anche il funzionamento della pompa disagi, soprattutto per gli anziani. Poi gli addetti sono riusciti a risolvere il problema. Le pagine pesaresi del resto del Carlino si soffermano invece sui cantieri, in particolare quelli legati alle opere compensative dell'A14, Bretella, Gamba, Picca e Santa Vederanda, cantieri in stand-by. Questo è il titolo. Le due opere sono nel piano di società autostrade, ancora al vaglio del Ministero delle Infrastrutture, Barriere antirumore e luci per completare la circonvalazione di Muraglia per i primi sei ettari di Bosco Urbano. Tutto rimandato intanto ad inizio 2025 per l'Interquartieri. Si legge all'interno dell'articolo. Siamo ormai alle limature conclusive, mentre per quello che riguarda gli altri fronti si registrano degli intoppi che dovranno essere rimossi. Ancora opere pubbliche, in questo caso le asfaltature. Ultima tranche, ma non sarà allora di punta le rassicurazioni dell'assessora della Dora. Vogliamo garantire il transito ai lavoratori dopo Villa Fastigi. Tocca ora a Borgo Santa Maria. Le recenti piogge, si legge ancora nel sommarietto, hanno intanto peggiorato anche la situazione in via Giolitti. Quanto invece ai disagi che appunto i cantieri comportano, quelli che si segnalano per coloro che transitano la via De Gasperi, che sarà chiusa per due giorni, si smonta la GRU, le scuse dell'amministrazione comunale per appunto i problemi che verranno provocati dall'operazione, in particolare per tutti coloro che orbitano attorno alle zone del centro storico e ai quartieri di Loreto, Muraglia e Monte Granaro. Tornando poi alle strade, altri 400 mila euro saranno impiegati per i ripristini la prossima primavera. Ancora, dalla Corriere Adriatico, la riqualificazione di Rocca Costanza, tema della quale si parla ormai da diverso tempo, ora qualcosa si muove. Il Demanio vuole partire con il cantiere. Da oggi si smonta anche l'Edwall digitale del Palazzo dell'Ex Intendenza, impacchettato da marzo 2023. Anche questo un altro di quei cantieri di cui negli anni scorsi era stata data per imminente la partenza. In realtà si registra ancora uno stallo. Quanto invece a Rocca Costanza ci sono sviluppi. Appunto l'Agenzia del Demanio vuole inaugurare il cantiere. La prima fase dei lavori consisterà, si legge all'interno dell'articolo, nella previsione di spazi che dovrebbero essere destinati a raccogliere le opere che la Fondazione Dario Fo e Franca Rame ha messo assieme. Anche se a questo riguardo è da ricordare come il Sindaco Biancani nelle settimane scorse abbia avanzato qualche perplessità su questo tipo di destinazione. La politica ora è l'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale. Frutto delle elezioni che si sono svolte domenica scorsa, Provincia si è insediato il Consiglio, collaboriamo per il bene di tutti. L'appello che è stato lanciato dal Presidente Paolini, che ha invitato in questo senso all'unità centrodestra e centrosinistra, dopo il sostanziale pari e patta decretato appunto dalla tornata elettorale, sei consiglieri a testa per centrodestra e centrosinistra con il Presidente Paolini, che appartiene allo schieramento di centrosinistra, fare d'ago della bilancia. Intanto il Corriere Adriatico si concentra di nuovo sulle turbolenze all'interno del PD fanese. La mancata elezione di Cucchiarini allarga la fronda fanese contro il segretario comunale Minardi, una situazione che si poteva definire latente, che appunto la mancata elezione della Cucchiarini ha reso di tutta evidenza. Quanto invece alla biosfera, che è stata bersaglio di un atto vandalico qualche notte fa, l'annuncio è che la biosfera sabotata sarà riattivata entro la settimana. Intanto proseguono le indagini per individuare i responsabili, il danno meno grave del previsto. Anche il Corriere Adriatico si dedica alla cronaca giudiziaria, di un episodio che per certi versi fa anche sorridere. A processo per evasione scappa ancora una volta, si tratta della vicenda che riguarda appunto un trentenne marocchino, protagonista di una rapina il 18 settembre. Era finito ai domiciliari, era evaso, ma al momento di rispondere di questa evasione non si è fatto nuovamente trovare. Quanto invece al clima, il Corriere Adriatico si sofferma nelle pagine regionali sui dati che sono stati forniti da questo mese di settembre, settembre anti siccità, in un mese è piovuto il doppio del normale precipitazione media di 170,6 mm, meno 105% sullo standard, deficit quasi azzerato. Fra il 17 e il 19 settembre un picco di 300 mm in 72 ore, un'anomalia del 238%. Un fiume di vapore, quello originato dalle piogge che si è scontrato con i venti di Bora. Quanto alle località che hanno registrato la maggiore concentrazione di pioggia, il Corriere Adriatico ne fa un elenco, Camerano in cima alla lista, poi anche a Gugliaro, Falconara, Marittima, Potenza, Picena e anche Pesaro con 213 mm, come già anticipato nel titolo, si è ancora in una situazione di deficit anche se si registra un recupero delle precipitazioni anche nell'arco dei 12 mesi. Il mese di settembre risulta essere però anche più caldo della media, al di là del dato sulle precipitazioni con una media di 19,5 gradi, superiore di 0,7 appunto al dato medio. Allarghiamo un po' il fronte dedicandoci anche all'evento del G7 della salute, una vetrina per le marche. Ancona accoglie da oggi a venerdì l'evento planetario, attesi 300 ospiti di 16 delegazioni, 6 le sessioni di lavoro. Su di noi si accendono i riflettori di tutto il mondo, fa notare il governatore Aquaroli. A congresso i ministri della salute e di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti si parlerà nel corso di questo appuntamento di architettura sanitaria globale, prevenzione, preparazione e risposta alla pandemia, oltre che di invecchiamento sano e attivo e innovazione. Poi l'approccio di One Health con attenzione alla resistenza antimicrobica. In previsione di questo evento, dice la sua e la preside della Facoltà di Medicina dell'Università Politecnica delle Marche, dalla lezione del Covid è sempre più cooperazione. Serve una gestione mondiale della sanità, afferma lo stesso Silvestrini. Spostandoci invece a Senigaglia, cogliamo dal titolo della Corriere Adriatico i problemi che affliggano il laboratorio analisi dell'ospedale. Piove all'interno del laboratorio analisi, infiltrazioni e soffitto scrostato, la denuncia del comitato cittadino, l'accoglienza è inaccettabile, alcuni pazienti sono caduti. Sempre riguardo a Senigaglia, anche la richiesta di aiuto che è stata inviata dal sindaco di Senigaglia a Roma per realizzare l'asilo da 3 milioni che dovrebbe sorgere alla Cesanella. In questo senso in particolare, si confida nell'impegno che potrà produrre a favore di Senigaglia la viceministra Gava. Anche un episodio di cronaca da Senigaglia beve troppo e scatena il caos. Tutto avvenuto in un negozio, è stato necessario l'intervento della polizia, l'episodio avvenuto più esattamente a Marzocca. La donna è stata poi portata in ospedale. E siamo così al termine di questo appuntamento di Occhio ai giornali. Ricordiamo anche quelli che sono in calendario per la serata, alle 20 il teleracconto condotto da Sergio Ferri, mentre alle 21 potrete seguire lo speciale dedicato all'inaugurazione del nuovo fondo in sintetico del campo di calcio 8 di Falcineto. Grazie per averci seguito e vi raccomandiamo di continuare a farlo. Grazie. 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 Grazie.